Ora che abbiamo appreso quali sono i parametri fondamentali che possono definire un video, vediamo come proprio in base a questi parametri possiamo definire uno standard video piuttosto che un altro. Generalmente gli standard televisivi vengono suddivisi in due grandi categorie, lo standard televisivo PAL e lo standard televisivo NETSC. Lo standard televisivo PAL è lo standard utilizzato in quasi tutti i paesi dell'Europa tranne la Francia, dove esiste una variazione particolare del sistema televisivo PAL detto SECAM. Il SECAM lo potremmo trovare anche in Nord Africa e in alcuni paesi dell'Europa dell'Est. Il sistema televisivo PAL è il sistema televisivo che utilizziamo normalmente nelle nostre case in Italia, è un sistema televisivo che utilizza una dimensione del fotogramma di 720 x 576 pixel, riprodotti a una velocità di 25 fotogrammi al secondo. Dall'altra parte il sistema televisivo NETSC è un sistema utilizzato generalmente in tutta l'America, nel Canada e nel Giappone. Ha una dimensione di 720 x 480 pixel e questi fotogrammi vengono riprodotti a 30 fotogrammi al secondo. Se fate caso il sistema televisivo NETSC è un sistema televisivo con una dimensione minore rispetto al sistema televisivo PAL. D'altro canto però il sistema televisivo NETSC è un sistema con una maggiore velocità nei fotogrammi, quindi verranno riprodotti più fotogrammi in un secondo rispetto allo standard televisivo PAL. Questo non deve far pensare ad una migliore qualità del sistema televisivo NETSC rispetto al sistema televisivo PAL. In effetti, fuori due, quello con maggiore qualità visiva, è sicuramente il sistema televisivo PAL, in quanto il sistema televisivo NETSC presenta dei problemi di trasmissione, soprattutto su quella che è la gamma dei colori. Infatti potremmo trovare colori piuttosto sbiaditi. Nel corso delle lezioni cercheremo di usare naturalmente progetti di tipo PAL, come penso che anche voi utilizzerete. Fate molta attenzione che per utilizzare video girati in sistemi NETSC sarà necessario dotarsi di apparecchiature che possano gestire questo flusso video. Per esempio, non tutti i videoregistratori VHS possono leggere nastri scritti con il sistema NETSC. Non tutti i videoregistratori presenti in Europa possono leggere videocassette scritte con il sistema NETSC e viceversa questo. Esistono però dei particolari televisori, dei particolari registratori VHS, che possono essere definiti come multistandard, cioè leggono uno standard video differente da quello in cui vengono utilizzati normalmente. Quindi potremmo avere un lettore VHS, un televisore PAL, che è in grado di leggere anche sistemi NETSC. Nel corso dei nostri progetti, comunque, come detto, utilizzeremo sempre progetti di tipo PAL.